Vediamo ai concorrenti che il numero di testiera 82 è uno scratch. Grazie. 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 Guardati. 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 Travi. Vai. Vai. Vai, guardati. 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 Lleva. Prima bene dritto e poi l'olano. Bravissima. Vai! 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 Guarda la dose, una seconda. Prima bene dritto e poi l'olano. Vai di più! Vai! 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 Bravo! Vai! 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 amiri nella! Vra saci ! Vra saci! Grazie a tutti. Grazie a tutti.